Buon samurai a tutti, benvenuti sull'edicola di samurai, oggi abbiamo una puntata speciale dedicata alla 41esima Assemblea dell'Africa di Roma il 27 febbraio. Abbiamo in linea il Presidente federale, Dottor Domenico Falcone, il quale ci illustrerà alcuni punti basilari di tutta questa campagna presidenziale politica senza il fair play e quindi bisogna dare una scrollata, una chiarita ad alcuni punti. Presidente, benvenuto. Grazie, grazie Spartaco, buongiorno a tutti, salve. Grazie dell'invito. Siamo subito in materia. Sappiamo che hai preparato un piano strategico di 5 punti molto importante. Vuoi illustrarci la macro operazione, i macro punti e poi diciamo per pensare propriamente sul punto iniziale, che è la ripartita dell'attività agonistica, che è quella che tutti attengono nel marzo e aprile di quest'anno. Grazie Spartaco. Le 5 macro aree, io ho pubblicato il piano strategico il 29 gennaio, riguardano la ripartenza, l'inclusione, la competitività, la digitalizzazione e la sostenibilità. In queste macro aree ho inserito quelli che sono un po' gli obiettivi che intendo raggiungere, che intendiamo raggiungere nel prossimo quadriennio. Ovviamente saranno arricchiti anche dalle numerose chiacchierate che sto svolgendo con le regioni a partire dal 18 dicembre e quindi settimana prossima il piano strategico sarà definito e completato. Per quanto riguarda la ripartenza, che dice bene la ripartenza, perché è un problema che non è che riguarda un prossimo futuro, riguarda oggi, riguarda i prossimi giorni e le prossime settimane. Quindi ho lanciato un po' l'allarme, ho cercato di proporre dei suggerimenti per farci trovare pronti. Perché farci trovare pronti? Il DPCM del 5 marzo sarà pronto credo a giorni e quindi sapremo un po' quali saranno le direttive governative per i prossimi mesi, per il prossimo mese. In calendario abbiamo inserito dal mese di gennaio alcune competizioni che stiamo a poco a poco slittando, tenendo conto che ad oggi non abbiamo ritenuto opportuno avviare competizioni inserite nel calendario perché non ci sono i presupposti, i problemi sono enormi, le regioni hanno problemi differenti l'una dall'altra, quindi molte palestre sono giuse. Quindi abbiamo deciso col Consiglio federale, questo ovviamente, di slittare queste competizioni, il prossimo Consiglio che sarà eletto dall'Assemblea prenderà in mano la situazione e stabilirà un po' gli obiettivi da raggiungere. Questo è un po' il succo del discorso. Quali sono le soluzioni che ho prospettato? Una soprattutto, quella di tenuto conto che i campioni italiani, noi abbiamo spostato, posticipato quelli di Karate, a metà marzo c'era un campione italiano di Catà, non ci sono le condizioni per ripartire dalle regioni e tenuto conto dell'attuale situazione, quindi vengono posticipati. Poi abbiamo previsto nel mese di marzo alcune competizioni del Judo, il campione italiano proprio di Judo a metà aprile. Allora, per essere pronti per poter svolgere anche le qualificazioni, ho ritenuto opportuno suggerire, e il Consiglio federale lo ha approvato, l'istituzione di questa figura del referente regionale anti-Covid, per aiutare e supportare il Comitato regionale nell'organizzazione di una gara, di una manifestazione, sia qualificazione o altre manifestazioni agonistiche, che necessitano ovviamente di una specifica attenzione su queste misure stabilite ovviamente dall'autorità di governo. E quindi questo lo ritengo importante, tenuto conto anche che questa iniziativa, a livello ovviamente molto più ampio e più professionale, è stato svolto dalle federazioni internazionali di Judo e di Lotta, che prevedono proprio questa specifica figura chiamata Covid Manager per accompagnare le squadre nazionali durante le competizioni all'estero. Quindi questa è una prima iniziativa. Poi, il prossimo Consiglio ovviamente stabilirà se mantenere le competizioni nel calendario di aprile, oppure fare ulteriori slittamenti in funzione della situazione sanitaria che a oggi si presenta estremamente difficile, tenuto conto delle varianti di questo benedetto virus che non vuole mollarci la presa su noi cittadini. Quindi questo è il primo aspetto. Non so, Spartaco, se devo fare qualche domanda su questo, posso andare avanti e continuare? Puoi andare avanti, a mio modesto parere. Magari facendo riferimento che è il problema dello sport, visto che il governo non abbiamo ancora la delega di chi sarà il referente e che Draghi ha parlato in senso generale dell'importanza dello sport. Quindi è tutto legato a questo DPM che deve uscire entro il 5 di marzo. Certo. Dici bene perché la figura della delega allo sport, che sarà data probabilmente a un sottosegretario, non sappiamo a chi, è importante anche per dare avvio alle procedure di questo prossimo DPCM, perché attualmente ovviamente è una posizione di stallo, anche lo stesso dipartimento col quale ho avuto contatti sia verbali che lettere che ho trasmesso, soprattutto anche per sollecitare l'apertura degli sport di base, è una situazione un po' di impasse. Si sta aspettando appunto, credo, la nomina di questa delega, quindi la scelta della persona che seguirà, auguriamoci, con competenza e professionalità la parte sportiva per dare le giuste indicazioni. In ogni caso io mi sento di dire fin da adesso che noi dobbiamo sempre mantenere le buone pratiche che abbiamo attivato in questo anno di chiusura dell'attività sportiva, cioè le misure del distanziamento, l'uso della mascherina e tutto ciò che ne consegue sarà sicuramente mantenuto per tutto questo anno. Quindi per svolgere la competizione, secondo i dettami dei campionati italiani, come previsto dai singoli PAF delle discipline, che prevedono numeri importanti, sarà necessario trovare delle misure, delle misure particolari che possono essere, come dire, intanto prima di tutto si potrebbe anche slittare le competizioni nel periodo più estivo, dove magari il virus mollerà un po' la presa, oppure se le gare si ritengono utili farle, bisognerà fare i conti con i numeri e quindi individuare palazzetti abbastanza ampi, con aree molto spaziose e soprattutto scaglionare gli atleti in funzione delle categorie con orari diversificati per evitare gli assembramenti. E probabilmente, dico probabilmente, forse si dovrà adottare la possibilità di poter iniziare le gare il venerdì pomeriggio, forse solo così riusciremo a svolgere i campionati nel rispetto dei programmi che sono stati già approvati dai rispettivi consigli. Tenendo la lotta, faccio un esempio della lotta che invece ha mantenuto i propri campionati il 27, 28 e 29 a Livorno, il capo dell'Aneu Nores, dei tre stili, inizieranno le competizioni proprio il venerdì pomeriggio, perché così facendo si riducono il numero dei partecipanti e quindi si riesce a gestire la gara in sicurezza. Gli atleti verranno col tampone molecolare fatto 72 ore prima e prima di andare in gara, quindi al loro arrivo presso la sede di gara sarà svolto un tappone rapido antigenico per verificare appunto il loro stato. Quindi questi sono i preparativi a cui la federazione è tenuta a svolgere per garantire la ripartenza. La ripartenza che sia necessaria, lo ritengo utile, è fondamentale per ridare fiducia e speranza a tutti. Da questo tunnel bisognerà uscire prima o poi. E quindi ecco come prepararsi per riprendere l'attività sportiva. Si è, hanno dato un po' un sacco di numeri ultimamente sul discorso del bilancio. Il bilancio del 2017-2020 che verranno presto pubblicati nella prossima settimana. Vuoi darci qualche punto, qualche riferimento, qualche numero importante da sviluppare e da far conoscere ai nostri portatori? Sì, infatti ti faccio vedere in anteprima quello che è la copertina della relazione. Spero che si possa vedere. Eccola qui. La raccolta un po' di tutti i nostri successi è una carrellata di quanto è accaduto in questo quadriennio. Voglio ricordare a tutti, a me compreso, soprattutto che nel 2022 la federazione di 18 gennaio compie gli anni. Facciamo, compiamo 120 anni. Quindi è un traguardo importante che, come dire, che avrà ovviamente il suo risalto nel corso dell'attività. Per quanto riguarda, ecco io lo sfoglio Spartaco velocemente per darvi anche un po' di numeri. Una parte importante è stata dedicata alla gestione dell'emergenza. Io credo che la federazione ha attivato tutto quello che era necessario, era possibile per poter garantire l'apertura dell'attività sportiva quando è stato possibile in sicurezza. È un protocollo che è stato elogiato da tanti, anche da non appartenenti al nostro mondo. Di questo sono contento perché le scelte che abbiamo fatto nel nostro gruppo di lavoro sono state eccellenti. Per quanto riguarda i risultati, parliamo di medaglie, ecco io in questi tre anni e mezzo, vogliamo dire, se raffrontiamo con il quadriennio precedente, questo lavoro appunto confronta i due quadrienni, vediamo un aumento esponenziale di tutto ciò che riguarda i risultati sportivi. Le medaglie complessive sono passate da 261 a 279, medaglie agli campionati ufficiali ovviamente della federazione, gli europei e i mondiali, i seniori, i campionati di categoria. Il totale delle gare disputate, con il 2020 ovviamente a scartamento ridotto, sono state 341 rispetto ai 296 del quadriennio precedente. 69 ori, 87 agenti, 123 bronzi. Credo che sia una cosa importante per la nostra federazione, così come vorrei evidenziare le medaglie del settore lotta, che nel quadriennio 2013-2016 sono state 22, nel questo quadriennio col 2020 ovviamente a scartamento ridotto, diciamo così, le medaglie sono state 52, quindi questo lo voglio sottolineare in quanto ho letto così da un po' di parte, insomma come dire che la lotta non ha completato i propri programmi, sono state delle opinioni che ovviamente vengono smentite dai fatti, quindi questi sono gli ideologi che non guardano la realtà, la realtà sono i risultati, per questo è bene avere delle pubblicazioni che ricorda a tutti che cosa ha fatto la federazione. Grandi eventi, ogni settore ha organizzato delle importanti manifestazioni, la lotta soprattutto ha organizzato gli europei di categoria nel triennio precedente, quindi i cadetti a Faenza, gli campionati europei Uniones e Seniores organizzati a Ossa nel nostro palazzetto. Nel 2020, proprio poco prima, siamo stati molto fortunati, entrasse il virus nel nostro mondo, quindi siamo riusciti a sfangarla, come si dice a Roma, quindi siamo stati fortunati, è stato un campionato eccellente sia per i risultati sia per l'aspetto organizzativo. Anche gli altri settori, il Judo e le tradizionali tornei European Cup, Senior, Junior e Cadetti, con a Roma, Ostia e poi ovviamente Lignano e Follonica, le sedi ormai tradizionali di questo calendario. Il quarto orario del Karate, le edizioni sempre importanti della Venice Cup, che è la manifestazione più importante nel calendario del Karate, in compresa anche il discorso della Youth League, che è un fiore all'occhiello della nostra federazione. Per quanto concerne il numero degli atleti partecipanti alle finali nazionali, è un trend in crescita, e questo è importante, partiamo dagli atleti, da 1977 atleti del 2017 nel Judo a 2227. Non vi leggo gli altri numeri, poi tutti i nostri delegati potranno divertirsi a sculciare le cifre e i numeri che abbiamo. Abbiamo trasmesso in streaming 28 gare di eventi di Judo, 40 di lotta e 26 di karate. Poi verremo pure alla parte della comunicazione, nella parte finale, in cui ci sono dei dati che sono veramente interessanti. Per quanto concerne l'attività della scuola, sono numeri, quindi tanti insegnanti che hanno acquisito la qualifica, gli aspiranti allenatori sono 1762, 389 allenatori, ma in più tutte le attività formative che abbiamo svolte durante soprattutto il 2020, attraverso quei webinar che ci hanno consentito di stare uniti ma distanti. Ma quello che mi piacerebbe sottolineare, Spartaco, a parte le sponsorizzazioni, abbiamo 16 fra sponsorizzazioni e partner commerciali, c'è il discorso della Filcam in TV. Ecco, qualcuno dice noi in TV non siamo apparsi, non abbiamo fatto nulla. Ecco, io qui ho l'elenco di tutte le manifestazioni che sono state svolte. I mondiali di Judo nel 2017 su Fox Sport, nel 2018 sono stati trasmessi i World Tour di Judo sul Sport Italia e l'Ivan Sport, su Rai Sport, i campani europei di Judo, i campani mondiali di lotta e quelli di karate. E poi noi abbiamo raggiunto un accordo con Sky Sport che sta trasmettendo, fra l'altro oggi, credo sono in corso o saranno più tardi le finali del grande slam di Tel Aviv, dove se non sbaglio abbiamo un atleta che si gioca la finale fra poco. Quindi siamo presenti nel mondo della comunicazione, così come nel mondo dei social e nel mondo digitale. Sono numeri per noi molto importanti, i 51 mila iscritti su Facebook, su Instagram sono oltre 31 mila, su Twitter abbiamo iniziato da poco, ci sono 2.200. Quindi poi abbiamo l'iscrizione su YouTube, abbiamo pubblicato 595 video su YouTube con 4 milioni di visualizzazioni. E quindi ritengo numeri importanti, come anche la campagna Difendiamo il Futuro, che abbiamo realizzato, se tu ti ricordi, nel periodo di settembre, ottobre, prima che riaprissero appunto le scuole. Allora speravamo di una libertà che il virus ci poteva concedere. Abbiamo realizzato questi spot pubblicitari, su Rai Play hanno avuto 1.200.000 visualizzazioni, su Sky Sport 3 milioni di telespettatori, su YouTube 600.000 visualizzazioni. E questo spot che possiamo sicuramente ripetere, la campagna mediatica, non appena le nostre società sportive potrebbero così riaprire con lo sport di base. Web e stampa, tantissima roba, la partner con la gazzetta, si sono stati 1.300.000 visite, 990.000 visitatori unici, sul sito federale sono tantissime visualizzazioni, oltre i 3.000.000 e come vedi, ecco, io credo che sono numeri che sono molto importanti, che attestano e confermano la bontà del lavoro fatto dalla federazione e dalle ovviamente strutture territoriali, attraverso anche e soprattutto l'attivazione dei media team dei siti regionali. Progetti promozionali sono tanti, io non voglio così dilungarmi ulteriormente, ma si parte dai progetti della disabilità sull'attività giovanile, il progetto Iconos sempre del karate e tanta tanta roba. Presidente, scusa, parliamo di numeri, hai fatto una carellata di numeri piuttosto importanti, specialmente per quanto riguarda il discorso dell'immagine. Chiaramente non per giocare in casa, ma anche Samurai Channel fa un anno, anche lui nel suo piccolo si incomincia a farsi sentire. A parte questo dettaglio, si è parlato molto del patrimonio federale che negli ultimi sei anni è passato da 5 milioni di valore a quasi la metà, 2 milioni di valore, il 48%, ma mi ci vuoi spiegare come mai c'è questo tipo di passaggio e perché è stato messo in evidenza così il 48%, sembra che la federazione perda attività. Esatto, io grazie che mi dai questa possibilità di poter dare i necessari chiarimenti, non solo su questo, ma anche sulle altre cose che ho ascoltato la scorsa sera su questa analisi che è stata fatta prendendo in esame i bilanci pubblicati dalla federazione. Allora, non voglio tediare il pubblico, i telespettatori con discorsi squisitamente tecnici, ma il patrimonio della federazione che è quello che consente appunto a tutte le aziende, in questo caso alla federazione, di avere una solidità e un equilibrio economico importante. Quindi questo valore viene determinato per quanto riguarda il movimento sportivo, è una legge, è un'indicazione stabilita da Alconi, che il valore del patrimonio di una federazione scaturisce dalla media degli ultimi tre esercizi. Il nostro valore minimo sarebbe di 424 mila euro esaminando i tre bilanci. Ora, dando una scorsa agli consuntivi degli anni passati, abbiamo questo andamento un po' altalenante di questi esercizi, proprio in virtù di una politica sportiva della federazione. Come dire, nel 2017, leggo qui il dato, c'è stata una perdita di esercizio di 980 mila euro, 720, che ovviamente la federazione può chiudere il bilancio in perdita. Voglio ricordare che la federazione non fa utili, la federazione deve fare investimenti, deve spendere soldi per lo sport e per il funzionamento. Quindi questo meccanismo consente a volte alla federazione, quando siamo nel 2017, uscivamo fuori dai giochi olimpici di Rio, c'era necessità di ricostruire delle squadre nazionali, portare più atleti in collegiale e in gara. Avevamo necessità di spendere più soldi nei vari settori. Queste sono state le richieste dei vari consigli e sono state autorizzate. Abbiamo chiuso in perdita, lo sapevamo, ma questo c'era consentita proprio da questo meccanismo in cui si tiene conto del fondo di dotazione e quindi l'aspetto economico, il risultato di esercizio e poi tutto ciò che riguarda l'asset della federazione, l'asset immobiliare, le liquidità, i crediti, tutto ciò va a costituire questo patrimonetto. Non è uno scandalo e sono aspetti che riguardano un po' l'atleta e il bilancio della federazione che poi nell'anno successivo abbiamo iniziato a recuperare, quindi abbiamo ridotto le perdite per arrivare al 2019 a un utile di esercizio e questo ci ha consentito di recuperare il patrimonio netto, di riportarlo a una cifra che è ancora un po' distante da quella iniziale 2015, ma nei prossimi esercizi io sono certo che andremo ancora a recuperare. Quindi non è uno scandalo, non è che la federazione non ha i soldi o si ferma, non è proprio così. Quindi è, come dicevo prima, questo fondo che la federazione deve avere per garantire il proprio equilibrio economico. Quindi noi abbiamo un asset importante come quello del Centro Olimpico che ci consente di avere un valore che ci permette di poter, in casi estremi, e già successo nel passato. Io sono stato segretario generale per tanti anni e mi ricordo in alcuni periodi in cui soprattutto c'erano anche le crisi economiche, la crisi del totocalcio e successivi problemi anche di budget, la federazione è stata costretta a chiudere in perdita anche alcuni esercizi proprio perché avevamo necessità di spendere per l'attività sportiva, ovviamente. Quindi qui si parla di spesa per l'attività sportiva per poi recuperare magari negli anni seguenti. E' tutto qua, Spartaco, il problema del patrimonio netto. È una disquisizione molto interessante. Ha fatto specie questo 48%. È chiaro che bisogna investire, specialmente quando le cose non girano al mio modo, bisogna investire. Contrariamente al principio italiano che quando le cose non vanno bene si smette di fare pubblicità, si smette di fare attività. Invece è il momento opportuno di fare qualche cosa in più se si vuole ottenere. L'abbiamo fatta coscientemente e sapevamo, tra l'altro, quello che magari non si è detto, ma tutte queste considerazioni che io sto facendo sono scritte nelle relazioni che accompagna il bilancio, la mia relazione, e anche la relazione del collegio, la relazione della nota integrativa. E quindi sono tutti aspetti spiegati così come, se tu mi permetti, volevo anche affrontare un altro problema che riguarda queste spese del personale che hanno, sembra quasi che la federazione non so che cosa sia spenda più per il personale che per l'attività sportiva. Non è così, perché si sono estrapolati e aggregati i dati, così è stato detto, in maniera corretta da parte del tecnico che ha operato questa analisi, che ha fatto un lavoro corretto, ma insomma non ha tenuto conto di quello che c'era scritto nelle varie relazioni. Perché la federazione, per quanto riguarda il personale, mi voglio soffermare qualche minuto in più, perché è un aspetto, come dire, che parte da lontano. Siamo nel 2007, nel 2007 la federazione c'era la Coni Servizi, la Coni Servizi aveva realizzato attraverso la società Bain un modello organizzativo per le federazioni assegnando le risorse in funzione dell'analisi che aveva svolto per circa un anno facendo interviste ai segretari generali, ai presidenti federali di tutte le 44 federazioni. Un lavoro enorme, ma che ha portato a un nuovo modello organizzativo. Noi abbiamo avuto, se non sbaglio, 39 persone, 39 persone, compreso il sottoscritto, ai quali Coni Servizi aveva assegnato i contributi, i soldi necessari per ovviamente per tutte queste risorse. Quindi soldi che la Coni Servizi trasferiva alla federazione per pagare gli stipendi, per essere chiari. La federazione al 2007 e al 2021 sono passati tanti anni, le incombenze sono state tante in più che noi abbiamo avuto, perché la burocrazia italiana è una cosa terribile. È vero che noi siamo un organismo di diritto privato, ma siamo un organismo pubblico, soggetti alle norme di diritto pubblico, in quanto gestiamo soldi pubblici e soddisfacciamo un interesse pubblico. Questo è in termini tecnici il significato di organismo pubblico. E quindi siamo soggetti alle norme amministrative, codice degli appalti, la fatturazione elettronica e tutto quello che ne consegue, una mirilla di adempimenti dal punto di vista dell'amministrazione. Noi abbiamo 80 sedi periferiche, 80 conti regionali, il bilancio deve essere consolidato, quello dei comitati regionali e delle strutture territoriali si inseriscono in quello della federazione e esce fuori il bilancio cosiddetto consolidato. Un lavoro pazzesco. Abbiamo avuto problemi con l'incidenza del doping, abbiamo una o due persone dedicate a fare questo lavoro. Voi non avete idea cosa significa il doping, la tutela delle squadre nazionali, che al mattino, se arrivano alle 5 di mattina, arriva la Lada o arriva la Nato o altri organismi proposti a fare i controlli. Gli atleti sono tenuti attraverso un circuito informatico a comunicare qualsiasi spostamento, perché possono fare i controlli in qualsiasi momento. Io ho ritenuto importante assicurare alla squadra nazionale di lotta giudeccarati un'assistenza continua, 24 ore su 24. Doping. Abbiamo proprio giustizia sportiva. E se ti racconto che questo è successo nella giustizia sportiva in questi ultimi 15 anni, è una cosa incredibile di adempimenti ulteriori. Quindi giustizia sportiva deve essere rafforzata. Lo stesso, dica sì, per quanto riguarda anche il lavoro della segreteria sugli aspetti di natura legale. Quindi noi abbiamo nel tempo provveduto a fare delle assunzioni. Nel contempo però, ecco questo purtroppo non era evidenziato, sì, abbiamo assunto quelle 18 unità, ma ne sono andati via sei persone per pensionamento e trasferimenti. Due persone sono state assunte obbligatoriamente sulla base delle categorie protette. C'è un obbligo per tutte le amministrazioni. Noi l'abbiamo fatto recentemente. Siamo felici e contenti di avere con noi queste due persone. E quindi il totale poi delle persone, come vedi, si riduce di quasi la metà. Quindi sono dieci. Quando io ricordo che col presidente Pellicone abbiamo baccagliato, come si vuole dire, col CONI, con l'allora segretario generale, perché non eravamo soddisfatti delle unità a noi assegnate, perché la nostra federazione è una federazione tipica. Noi siamo tre settori, abbiamo un centro olimpico. Quindi una federazione media, piccola, ha da 13 a 15 dipendenti. Ecco, questi sono i fatti delle federazioni sportive. Noi ne abbiamo tre federazioni più il centro olimpico, quindi ritenevamo corretto che ci venissero assegnate un 44-45 unità. Così non è stato. Allora, di nuovo, devo dire, dopo tutti questi anni, il presidente Cozzoli di Sport e Salute ha deciso di aprire un tavolo di lavoro con le federazioni per rivedere la pianta organica delle federazioni e provvedere a fare quelle integrazioni. Come tutti i presidenti, da anni noi stiamo richiedendo un aiuto e un sostegno forte perché, come dire, le federazioni siamo rimaste quelle di allora. Non potevamo farlo, abbiamo ovviamente agito per sopperire alla carenza di organico, ma ci mancano i fondi perché questi fondi, ovviamente, il personale è necessario e non sono spese cosiddette, sono indifferibili, hai il personale, lo devi pagare, serve per poter fare tutto il lavoro che fa una federazione grande come la nostra. Una slide che è stata presentata guardando, ovviamente, mettendo insieme i dati presi dal conto economico della federazione per quanto riguarda le cosiddette spese extra del personale e io volevo ricordare che alcune di queste prestazioni accessorie sono previste dai contratti e quindi è normale che ci siano. Il mondo sportivo, voglio ricordare a chi si dimentica certe cose, si lavora il sabbio della domenica e il personale quando lavora il sabbio della domenica deve essere attribuito con degli straordinari con i turni festivi previsti da contratto, non possiamo ovviamente non adempiere a quelli che sono gli oneri di un contratto e quindi è giusto che le persone vengono retribuite secondo come prevede il contratto. Per quanto concerne i premi di produzione, la federazione, voglio significare, perché questo lo si dimentica e la gente che non conosce il nostro mondo ovviamente queste cose non può captarle, ecco, è che noi abbiamo sempre svolto tutte le attività organizzative in house come si usa comunemente dire, ce le facciamo noi, eccetto i mondiali di lotta del 1990, io ero presente ai mondiali di lotta, che abbiamo, ci siamo avvalsi di un service esterno, tutte le altre manifestazioni, io ero il responsabile della preparazione impie, quindi ho gestito tutte queste attività, ero io il responsabile dell'organizzazione degli eventi, l'abbiamo fatto insieme a tutti i personali, quindi è un fatto importante e noi ancora oggi tutto il personale svolge i compiti previsti per l'organizzazione degli eventi, eccetto ovviamente quei servizi che devono per forza di cose richieste da terzi, quindi questo è ovviamente, tutto questo lo dico perché poi a fine anno queste persone che ovviamente hanno lavorato in maniera importante è previsto il riconoscimento di premi di produzione che prevedono i contratti secondo delle tabelle previste proprio dal contratto e quindi la federazione è giusto che riconosca questi emolumenti. C'è, ovviamente devo segnalare nel conto economico del 2018 ci sono delle cifre che sembrano e sono veramente eccessive ma questo nasce perché nel 2017 non è stato riportato, non è stato imputato per errore, questo è un errore che è stato commesso, è stato imputato l'anno di riferimento del 2017 nel 2018 ed ecco che la cifra è raddoppiata rispetto a quella degli anni precedenti ma è un pur errore contabile ed è stato evidenziato anche nella relazione al bilancio di quell'anno bastava leggere per capire che cosa fosse accaduto. Quindi non c'è nulla di particolare per quanto concerne gli stipendi ecco io voglio se tu permetti colgo l'occasione per poter evidenziare un aspetto che insomma mi sta vedendo così involontariamente protagonista di una situazione che dura da mesi e penso che si sia conclusa col 4 febbraio cosa voglio dire il 4 febbraio sono scaduti i termini per presentare ricorso contro le candidature io il sottoscritto sono stato così posto all'attenzione di un atto di sindacato rispettivo si dice tecnicamente un'interrogazione parlamentare fatta in maniera spontanea autonoma da 19 senatori e appartenenti al Movimento 5 Stelle e qualcuno o qualche altro partito che non ricordo quale sia per così evidenziare la mia posizione di conflitto di interessi quanto essendo un dirigente della sport e salute in distacco presso la federazione non potevo ricoprire l'incarico di presidente federale tu sai bene Spartaco l'interrogazione parlamentare non è un avviso di garanzia è un'interrogazione rivolta al ministro per chiedere informazioni all'interessato al datore di lavoro queste informazioni non so se sono state chieste io non ho avuto nessuna informativa di nessun genere perché ero certo sono certo che la mia posizione è stata variata dagli organi competenti di allora quindi parlo della con i servizi non di tanto sport e salute con i servizi stiamo parlando del 2008 quando io come tutto il personale che provenendo da con i servizi è stato distaccato presso le federazioni attraverso questo scamotaggio giuridico dettato penso presumo dal fatto che la società pubblica dove non poteva mandare il personale è una società privata e quindi hanno trovato questo strumento giuridico che consentisse il trasferimento del personale presso le federazioni e quindi candidarsi è un diritto previsto dalla Costituzione sono un dipendente della federazione ma tengo a ribadire come ho detto poc'anzi lo stipendio che mi viene erogato dai contratti che non sono di prima fascia io credo che alcuni non esistono i contratti non lo so io ho un contratto da dirigente e a quello mi attengo lo stipendio viene erogato il contributo viene formalizzato da Sport e Salute e viene inviato alla federazione per le risorse umane stabilite in quel range di cui ho detto poc'anzi le buste paga le fa Sport e Salute non le fa il segretario generale o il sottoscritto e ci mettiamo le cifre che vogliamo insomma sono cose ridicole e poi un'altra cosa perché sento dire spesso che la federazione se il presidente Falcone va via risparmia non so quali cifre spropositate e quadriennio una sciocchezza perché i contributi vengono rogati da Sport e Salute in funzione del numero della pianta organica se il sottoscritto per sua scelta o perché l'assemblea ne manda a casa ritorna da dove arrivava e quindi si porta il suo stipendio non è che la federazione l'anno prossimo avrà una quota relativa allo stipendio che a me interessa no perché i contributi sono finalizzati alle piante organiche questo tutto quello che sto dicendo si trova in iscritti in documenti redatti da lagoni servizi al suo tempo e anche da Sport e Salute quindi come vedi ci sono situazioni veramente che sono molto chiare e molto trasparenti è chiaro se uno non vuole capire beh allora se non vuole capire io non ci posso fare nulla insomma ecco se posso c'è un'ultima un'ultima parte che riguarda questo bilancio che mi sono guardato con attenzione il video dove hanno fatto sempre aggregando e estrapolando tutta una serie di dati in cui si configura nella promozione e comunicazione se stanno come dire spese per la promozione con una contestuale riduzione del numero delle società sportive addirittura si parla di 334 società in meno mi pare nell'anno 2020 rispetto al 2013 ma io non so da dove sono stati tratti i numeri delle società affiliate non sono quelle che sono indicate nei nostri conti economici ho controllato stamattina nel bilancio nel conto economico del 2019 e 2020 c'è uno specchietto che riepiloga il numero delle società sportive degli anni precedenti e non sono questi numeri le nostre società effettive io ho chiesto stamani che mi fornissero il dato ufficiale sono 2769 noi ovviamente ricordiamo abbiamo i tre settori abbiamo società delle polisportive che sono affidate a tutti i tre settori con atleti diversi che fanno insomma questi sono i numeri ufficiali 2769 nel 2019 e il 2809 è chiaro che c'è stata una flessione proprio legata purtroppo al problema del covid speriamo nel 2021 ecco sono curioso e Spartaco di poter così di verificare che cosa accadrà con questa epidemia che cosa succederà con le società sportive noi abbiamo e aggiungo un tassello del piano strategico abbiamo inserito un fondo istituzionale per poter cercare di garantire di aiutare le società che saranno ancora in difficoltà sono dei fondi che ci sono stati erogati da sport e salute l'abbiamo messo in bilancio riguardano 3-4 tipologie di intervento riguardano le famiglie meno ambienti riguardano la terza età riguardano il benessere del cittadino la lotta l'obesità l'aiuto alle donne quindi attraverso dei voucher di cui stiamo aspettando di conoscere le modalità di applicazione per poter poi quando troveremo ci saranno le condizioni per poter cercare di aiutare chi ne ha diritto la domanda il Presidente diciamo che è una cosa più leggera rispetto al discorso dei conti bilanci e così via il giudizio e le discipline associate hanno avuto in questo ultimo periodo una pletora di notorietà che io ritengo che sia quasi inutile anche se in un certo senso anche noi facciamo parte in causa di questo di questo dipartimento ci vuoi spiegare effettivamente il perché il giudizio e così le discipline associate non votano in questo quadriegno e quali sono i problemi che frenano la loro omogeneità nell'ambito degli altri tre settori Sparta ho letto anch'io delle dichiarazioni che mi lasciano essere fatti perché non si guarda in faccia alla realtà si guarda per altre ragioni si dicono certe cose ma manca proprio il senso pragmatico delle cose come si fa a dire che una disciplina può divenire un settore una federazione quando non ha nessun riconoscimento internazionale tu sai bene abbiamo lo trattato diverse volte in consiglio federale questo argomento è una situazione paradossale per la federazione che non gode dei riconoscimenti internazionali una federazione ufficiale del CONI che gestisce il giugizio e ce l'ha invece un organismo privato perché la federazione internazionale ha scelto così sono due o tre anni credo che sono alla caccia di questo riconoscimento sono stato promotore di una riunione il 12 gennaio prima del lockdown meno male a Lausanne insieme al presidente Malagò insieme al presidente Chiulli che ringrazio Chiulli è il presidente del GASF un massimo organismo che racchiude tutte le federazioni non olimpiche insieme al presidente internazionale l'accordo era quello di poter trovare appunto l'accordo era di trovare un accordo che non abbiamo trovato a dicembre dello scorso anno nella nostra richiesta era stata inserita nell'agenda del board della federazione internazionale questo mi pare il punto 7 poi non è stato trattato noi abbiamo mandato la documentazione di richiesta e però non è stato trattato sto aspettando ovviamente dopo ovviamente i lavori assembleari di poter riprendere contatti con la federazione internazionale per cercare di chiudere positivamente questo problema altro aspetto riguarda l'attività nazionale finché non si raggiunge una omogenità dal punto di vista tecnico fra le diciamo le diverse anime un po' del jiu jitsu e noi da tempo avevamo attivato questa diciamo iniziativa proprio perché ci sentivamo siamo una casa delle arti marziali possiamo essere l'ente aggregante di queste cose quindi questo ero e sono perfettamente d'accordo anche qui però dobbiamo completare questo lavoro lo riprenderemo lo riprenderemo spero fra qualche mese e quindi dopo che si rivedono queste condizioni allora forse si può parlare di un eventuale riconoscimento del jiu jitsu come settore federale ovviamente tutto questo deve essere sottoposto al vaglio dell'assemblea insomma non è un fatto scontato mi sembra che la nostra chiacchierata sia stata abbastanza precisa complessa forse magari un po' lunga però era il momento giusto per dare una svolta a tutte queste dicerie una settimana prima dell'assemblea se non è nulla io direi che possiamo concludere questa puntata speciale noi avremo ancora un'appuntata il giorno 25 per la quale attendiamo da te i profili delle persone che dovremo invitare in trasmissione e poi ci vedremo all'assemblea giusto e come si dice vinca il migliore grazie 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 a te un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori buon lavoro grazie grazie Sparta buon samurai a tutti buona serata sul prossimo numero di Sport Channel grazie e arrivederci grazie a tutti